ci stai sulla destra, c'è c'è ragà, provate a vedere da cantiere che si sento di patto termite enterato vai 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 c'è il default plant diffuser eh rampino io c'ho cam garage ok timing, verità cioè ti sei fatto far da quello guano sai che entrata eh no terra fuori cantiere fra questa cosia è una merda ok c'è un altro cantiere mi sa eh stai così stai così te lo vede cece non ti sporgere ne sento uno verso bridge eh mi sa che è sopra una finestra ti copre cece dopo la porta finestra cece ce l'hai restano quindici secondi dieci secondi e via è entrata finestra entrato ci c'è perfetto squadra d'attacco eliminata missione dunque eh che sale non sapevo non sapevo dunque era fuori avevo sentito giusto avevo sentito giusto era fuori era fuori da bridge fuori da bridge non lo sapevo sono